Un certo di Federasi e benvenuti a questo appuntamento con la nostra veterinaria dell'auto che siamo in una concessionaria Suzuki, beh lo si capisce da quello che abbiamo qui sulle nostre teste, vero Claudio? Naturalmente però dove ci troviamo? Auto Formula, concessionaria Suzuki in compagnia di Claudio e vedremo sicuramente delle belle occasioni, vero? Spero proprio di sì vivamente, andiamo subito a vederle. Mi trovo di fianco nuova Suzuki S-Cross, un prodotto presentato di recente, meno di un mese fa, ma che sta riscontrando veramente un grandissimo successo. Abbiamo tre motorizzazioni per questo nuovo modello, due benzina e una gasolio. Le benzina è 1000 Booster Jet, 112 cavalli, a discapito della cilindrata che può sembrare bassa su una macchina di queste dimensioni 4,30 metri, è una macchina che sa regalare veramente tantissime emozioni a costi di gestione bassi. Poi abbiamo una versione 1400 Turbo, accoppiabile alla trazione integrale e eventualmente anche al cambio automatico, per poi finire con la versione Turbo Diesel dai consumi veramente parsimoniosi, 1.6 diesel, il motore che l'equipaggia. La macchina è lunga, come abbiamo detto prima, 4,30 metri con una capacità di carico record della sua categoria, 430 litri di bagagliaio, guida alta, peculiarità Suzuki, e diciamo che gli allestimenti sono tre, easy, cool e top. Partiamo dalla versione easy, servosterzo, vetri elettrici, chiusura centralizzata, climatizzatore, radio antifurto, per passare alla versione cool che è l'intermedia ma è che è veramente ricca di ogni, come quella al mio fianco, ruota in lega, fari full led, vetri scuri nella parte posteriore, barre sul tetto, sedili riscaldati, cruise control, bluetooth e tanto altro per davvero, per poi finire la versione top, quindi sensori di parcheggio anteriori e posteriori, navigatore satellitare. Gamma nuova S-Cross a partire da 15.190, un prezzo strepitoso per avere una prima macchina di famiglia, quindi una macchina grande, ad un prezzo di un'utilitaria. Mi trovo di fianco su Suzuki Baleno, la nostra novità per il 2016. La macchina è un'utilitaria, una macchina a 3,99 metri, ma con una linea veramente accattivante e particolare. Abbiamo tre allestimenti anche in questa macchina, quindi versione easy, versione cool e versione top. Si parte dalla versione easy, servosterzo, vetri elettrici, chiusura centralizzata, climatizzatore radio, per passare poi alla versione cool, già equipaggiata con cerchi in lega, bluetooth, cruise control e tantissimi altri accessori, per poi arrivare alla versione top, equipaggiata anche di navigatore satellitare, sedili riscaldati, vetri privacy e telecamera di retromarcia. La gamma Baleno è offerta da 10.900 euro. I motori che la equipaggiano sono due, un 1000 booster jet veramente performante che equipaggia la versione S o le versioni 1200 benzina. C'è da dire di questo prodotto che esiste anche la versione SHVS, quindi il primo ibrido di Suzuki, una macchina che beneficia di tutti i supporti di un pacchetto batteria collocato sotto il sedile della vettura, che mi aiuta in fase di accelerazione a usufruire meno della coppia, quindi conservare quello che è un discorso di consumi, e in fase di rilascio andare ad accumulare energia. Macchina eccezionale da provare solo da noi, ripeto il prezzo, da 10.900 euro. Pronta consegna a tutti i colori. Mi trovo di fianco Suzuki Swift, il nostro veramente fiore all'occhiello per quanto riguarda le utilitarie. La Suzuki Swift è equipaggiata con un motore 1.2 benzina, 4 cilindri, un motore entusiasmante e dei consumi veramente ridotti. Nell'eventualità c'è anche la possibilità di accoppiare l'impianto GPL. Disponibile due ruote motrici o quattro ruote motrici e anche con cambio automatico. Le versioni sono quattro, versione Easy, versione Cool, versione Unique e versione Top. Mentre Top e Unique sono già equipaggiate con navigatore, quindi ne fanno il top di gamma, questa sera mi soffermerei tanto sulla versione Cool, che è la versione più venduta. È una macchina già equipaggiata con servo sterzo, quattro vetri elettrici, chiusura centralizzata, climatizzatore, radio, antifurto, cruise control, ruote e lega, fari fendinebbia e luci diurni a LED. La gamma Swift è disponibile da noi in pronta consegna di tutti i colori, con un prezzo a partire da 9.750. Segnatelo perché è un prezzo veramente entusiasmante. Abbiamo diverse unità, anche aziendali, tra le quali anche una versione 4x4, c'è da ricordare versione 4x4 B-Road della Swift, anche quella equipaggiata di ogni. versioni aziendali, dicevo poc'anzi, due ruote motrici, quattro ruote motrici, abbiamo un paio di unità anche con cambio automatico. Prezzi a partire da 9.750 euro, tutti i colori, pronta consegna. Affrettatevi perché finiscono. Sono al fianco di Suzuki Selerio, la nostra piccola cittadina, una macchina di 3,60 m per 160, quindi molto contenuta come dimensioni, con una capacità di carico incredibile. Il motore che l'acquipaggia è un 1000 benzina, dai consumi ridotti, pensate che la casa la dichiara 27,7 km con un litro. Le versioni sono 3L Easy e versione Style. Noi ci soffermiamo sulla versione Easy, che è la versione in promozione, 8.490 euro per avere il servo sterzo, i vetri elettrici, la chiusura centralizzata, il climatizzatore, la radio, l'antifurto, la porta USB e anche il Bluetooth. Quindi prodotto veramente completo, a meno di 8.500 euro, disponibile da noi, tutti i colori, pronta consegna, fino a esaurimento scorta, nel senso che le vetture prima o poi a queste cifre finiscono. Invitiamo tutti alla prova, volevo ricordarvi che come tutte le Suzuki ha una guida molto alta, ha l'apertura delle portiere a 90 gradi, quindi diciamo che è una macchina fondamentalmente comoda da questo punto di vista. Invitiamo di nuovo alla prova di questo tipo di prodotto. Eccomi al fianco di Suzuki Jimmy, una macchina che ormai conoscete molto bene, è il fuoristrada più piccolo del mercato, equipaggiato con un motore 1.3 benzina, 4 cilindri. La macchina si può avere in due allestimenti, Evolution ed Evolution Plus, quindi versione di partenza la Evolution, servo sterzo, vetri elettrici, chiusura centralizzata, climatizzatore radio, invece la versione Plus ha già l'interno in pelle, il fendinebbia, la ruota in lega e il vetro posteriore brunito. Volevo ricordare che la macchina naturalmente è un fuoristrada, quindi viaggia due ruote motrici, con un pulsante diventa un quattro ruote motrici e ha anche le marce ridotte, guidabile dai neopatentati, quindi un prodotto eccezionale, uno dei più richiesti sul mercato dei fuoristrada, perché piccolino riesce più o meno ad andare dappertutto. Al mio fianco una versione spettacolare, la limit edition per quanto riguarda l'anno 2016, quindi street, si replica la versione bianca arancione dell'anno scorso con una nuova livrea, nera, grigia e richiami gialli, sia esterni che interni. Molto particolare, disponibile da noi in pronta consegna, abbiamo ancora qualche unità aziendale del mese di settembre, in più c'è da dire che la Jimmy l'abbiamo anche sul mercato dell'usato, quindi abbiamo diverse unità usate, una versione con impianto GPL, diciamo che Jimmy il prodotto ce n'è parecchio, quindi affrettatevi, prezzi giusti, macchine disponibili, più o meno tutti i colori Suzuki Jimmy. Bene Claudio, ci hai presentato veramente delle vetture straordinarie, dei prezzi straordinari, ma ora andiamo a vedere anche quella vettura che hai lasciato per ultimo, una di quelle più conosciute sicuramente della gamma Suzuki e quindi parliamo del grande Suzuki Vitara. Sì, assolutamente sì, questa sera ho voluto dedicare più spazio alla Vitara, non per le varie importanze delle altre macchine della gamma, ma perché comunque ci teniamo in maniera particolare. Arrivando alla stagione fredda, Suzuki Vitara, 29 anni che viene prodotto, voglio farvi un piccolo riassunto di quello che è la gamma Vitara, ricordandovi vari allestimenti, le varie motorizzazioni, partiamo dalla versione cool, che è la nostra versione tra virgolette base, perché di base non ha niente, una macchina con servo sterzo, vetri elettrici davanti e dietro, climatizzatore automatico, ruote in lega, vetri scuri, telecamera di retromarcia, insomma cruise control, bluetooth, non manca veramente niente, disponibile in motorizzazioni 1.6 benzina, 1.6 diesel, due ruote motrici e quattro ruote motrici, quindi un prodotto tra virgolette base, ma veramente completo di ogni. Per chi non fosse ancora contento, abbiamo la versione top, quindi una macchina che va ad aggiungere alla dotazione della versione cool, cool, il climatizzatore automatico, navigatore satellitare, sensori di parcheggio anteriori, posteriori, poi abbiamo, che è una cosa molto importante, l'RBS, il radar brick support, quindi quel sistema che ci mette in una condizione ottimale di prevenire un eventuale tamponamento, il cruise control, come la versione cool, ma in questo caso adattivo, adattivo significa che riesce a regolare la velocità in funzione di chi precede, quindi molto interessante per coloro che utilizzano la macchina in autostrada. C'è da dire che le motorizzazioni sono le stesse, quindi 1.6 benzina, 1.6 gasolio, due e quattro ruote motrici, con però la possibilità, per chi lo volesse, di accoppiare anche il cambio automatico, che nel caso della versione benzina è un cambio automatico classico, tradizionale. Nel caso della versione a gasolio è un doppia frizione, quindi un cambio entusiasmante, molto veloce. Se per questa tipologia di clienti diciamo ancora non abbiamo raggiunto il nostro scopo, quindi dargli la macchina che va bene per loro, abbiamo una versione incredibile, la booster jet, quindi versione più sportiva, disponibile con tre livelli di colore, ve le ricordo, nero, bianco, grigio, nero e rosso, nero. Motorizzazione che l'equipaggio è un'unica motorizzazione, benzina, booster jet, 140 cavalli, quindi un prodotto esclusivo, nel senso che la motorizzazione è un turbo benzina piccolino, quindi cilindrata bassa, ma dai consumi veramente risori, paragonabili quasi a una versione gasolio, solo esclusivamente con la trazione integrale all grip, quindi vi ricordo anche qui versione all grip significa che la trazione integrale si inserisce solo quando serve, a meno che chi la utilizza voglia inserirla autonomamente, quindi mettendo nella versione sport o nella versione snow, o addirittura si può anche bloccare il differenziale. La booster jet è disponibile sia con cambio manuale sia con cambio automatico. E anche qui abbiamo spiegato abbastanza spero bene la versione booster jet. Per invece i clienti più esclusivi abbiamo dedicato una versione apposta particolare, si chiama exclusive, quindi già dotata di interno in pelle, colorazione esterna bicolore e motorizzazioni tutte, quindi benzina 1600 e gasolio 1600. Anche qui abbiamo la possibilità del cambio automatico. Volevo ricordare a tutti che tutte le versioni di Suzuki Vitara da noi sono in pronta consegna, abbiamo qualche unità addirittura aziendale, quindi macchina molto molto fresca. È la macchina che più di ogni altra va provata, perché veramente da guidare è un giocattolo, è una macchina molto semplice, leggera, intuitiva, dopo 5 minuti di guida sembra di averla da una vita, nel senso che riesce veramente ad amalgamarsi bene a coloro che la stanno guidando in quel momento. Disponibile da noi, pronta consegna, non mi sono dimenticato il prezzo, non è uno scherzo, Suzuki Vitara, da noi ad euro 16.900 euro, quindi un prezzo, ricordatevelo, segnatevelo, 16.900 euro per avere il nuovo Suzuki Vitara nella configurazione cool, che come dicevo prima è già ricca e completa di ogni, importantissimo. Vi aspetto per la prova di Suzuki Vitara. Certo, sicuramente Claudio hai fatto bene a specificare questo e sottolineare che è importante provarla e anche sottolineare che il prezzo non è uno scherzo, perché avere Suzuki Vitara a partire da 16.900 euro, è un prezzo di una piccola utilitaria e qui avete una grande, una grande vettura. Siamo arrivati alla fine anche questa sera, il tempo stringe, non vi farò vedere usato, ma da noi ce n'è veramente parecchio, raggiungerci è molto semplice, autostrada Milano-Varese, uscita Legnano, quindi l'uscita prima per chi arriva da Milano di Malpensa, per chi arriva da Varese è l'uscita subito dopo Malpensa, Legnano, fuori dall'autostrada, rotonda a destra, l'altra rotonda che si incontra a sinistra, sempre dritti siete da noi. Volevo ricordare che se tutta la gamma abbiamo in atto finanziamenti a tassi agevolati, con possibilità, è molto interessante di includere quello che è l'assicurazione, per 3 anni, 5, 6, 7, non c'è problema, riusciamo a farla su misura ogni cliente. Estensione della garanzia 5 anni, soprattutto una cosa importante da dire, abbiamo la possibilità del noleggio, quindi oltre finanziamento, noleggio, diciamo tutti i servizi 360 gradi legati all'automobile. Siamo qui uno staff ad aspettarvi, in una maniera una e l'altra, se volete una Suzuki, siamo qui per accontentarvi. Ricordiamo anche il servizio gomme, visto che stiamo arrivando all'inverno. Assolutamente, il tempo è quello che è, bravissima, servizio gomme per tutta la gamma, gomme pronte a consegne invernali, cerchi e gomme, abbiamo mille treni, non ci sono problemi. Perfetto, grazie mille Claudio, grazie a tutti voi per l'attenzione. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.